BELLA A TUTTI DA PORKMODZ Non so cosa bisogna fare Non ho idea Ci stanno delle armi Qual è l'obiettivo di questa LTS Qua c'è una rampa Forse ho capito Ci stanno le armi laggiù A qualcosa serve questa LTS Via 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 Bisogna saltare la sopra E lì si prendono le banto Quindi no Ok ok ho capito ho capito Vedo tutti fuori dalla mappa C'era la via più facile Ed è questa qui davanti a noi Neanche me ne ho accorto Allora Aspettate un attimo Andiamo qua sopra Tutti questi LTS che sto scaricando Sono tutte modalità strane Non riesco mai a capire cosa bisogna fare Allora le armi stanno lì Dalla minimappa stanno là Allora Andiamo 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 Ok Adesso qua c'è il freno Guarda questo colabanto Via 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 Andiamo Speriamo che non si vede male Che lo sapete che nei tubi Si vede male purtroppo Allora Andiamo Bisogna andare qua sopra Perché succede questo No è tutto Normale Basta aiuto 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 Ok Questo che deve fare con la panto Via 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 Andiamo Allora Adesso bisogna andare qua Ok Oddio mio Aspettate Allora Adesso possiamo andare Si Andiamo 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 Questo colabanto No no Ma deve passare il favore No 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 Dai Ok Ok va benissimo così Allora Adesso ci dobbiamo solo rimettere i dritti Se magari ce la fa Ok Dove bisogna andare Di qua No Quindi di qua per forza Qualcuno ha abbandonato la panto Perché ritornano indietro No raga Bisogna andare di qua Credo di si E' stranissimo Questo LTS Andiamo 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 Vai 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 Bella Marco Allora Andiamo Oh questo piedi Lo ammazziamo subito Ok Abbiamo ucciso Proprio quello che ho salutato adesso Raga Allora Andiamo Qua come si passa Ah di qua Di qua Ho capito tutto Allora Vai Perfetto Ok Ce la facciamo No freniamo Non mi spingere Deco la panto Ok Sta Ah è tipo una gara alle armi Teoricamente Bellissimo Allora Andiamo Andiamo Guardate Rega È assurdo Questa LTS Vai 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 Vado io Vado io Vado io Ok Vai che le armi stanno là Stanno là E noi ci siamo arrivati per prima Si Oh rega Attenti a questo State attenti a questo Come passo io No No L'abbiamo perso LTS Secondo me L'abbiamo già perso Quella ha arrivato già le armi Allora Dai 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 Ce la dobbiamo fare Ce la Dobbiamo Fare Come si passa Qua sopra Come Diamine Si passa No Quella ha preso le armi Ha preso le armi ormai Aspettate Perché la Panto non ci passa Nessun'auto ci passa da qua O la Panto si No È difficilissimo passare E in effetti Non c'ha tutti i torti Basta scendere E saliamo Nell'altro round Facciamo così Ormai Credo che Ci verranno secchi Purtroppo Allora Andiamo Andiamo Cosa possiamo fare Cosa possiamo fare Per salvarci Stanno di qua Credo che mi hanno già visto No Ho scoperto all'ultimo Come si sale da qua Oddio Chi è questo Questo è un nemico Però neanche se ne è accorta E neanche mi uccide E mi ha ucciso un altro Eh vabbè Questo round è andato perso Prossimo round Ok No round Mettiamoci La maschera su I no veloci Ok ce la siamo messi al volo Allora andiamo Andiamo È salito pure Qualcuno Antonio Nella mia macchina Andiamo 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 No 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 Mettere bene Ok Dobbiamo andare Non veloci di più E vai Non ci ha preso neanche la paleolica Dobbiamo proprio sbrigarci Oh guarda Questo con l'insur Oh Sto con la Panto io Allora andiamo 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 Veloci Oh Guarda questi Andiamo Andiamo Via 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 Ah è andato a sbattere È andato a sbattere quel suino Via Ok dobbiamo prendere Da questa parte Vai Grande Mario Simo Via 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 Andiamo 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 Allora Adesso bisogna Saltare Via Ok Dai 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 Perfetto Allora Rigiriamoci E la miseria C'è gente che già sta Troppo avanti Perché questo Vedevi rompe Con Sti Surgent Tanto alla fine mi ha dato solo una spinta Allora dai Dai Panto che ce la fai Grande Grande Panto Allora adesso ci infidiamo come si deve Ok Vai Veloce 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 Velocissimi Dobbiamo andare Dobbiamo andare a prendere queste armi E li dobbiamo arare questa volta Li dobbiamo arare per forza No C'è questo che Mi perseguita Allora Facciamo così Vai 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 Siamo alti Sì almeno Non ci rompe Oddio Che è sta parte Dai Aiuto Che c'è questo Ok Vai avanti Allora Via 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 Ok Levate te Vai 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 Dobbiamo passare Dai Siamo passati No Ancora no Quelli si però Mannaggia Dai 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 Stanno avanti quelli dell'altra squadra Regà Stanno loro avanti Levati No 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 Per favore Vai 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 Che casino regà Allora vai Oh ce l'ho fatta Ce l'ho fatta a passare io Dai adesso dobbiamo andare Che sta fa' avanti Oh Sta fa' 3000 Capriole Allora Andiamo C'è qualcuno della mia squadra che sta avanti Speriamo di sì Oh non mi driftava troppo Andiamo 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 velocissimi Velocissimi Bella Kiro Allora Andiamo Dai Per favore No Sono già arrivati quelli dell'altra squadra Ma non è possibile Ah ma la Panto Ci passa in due secondi qua sotto Guardate Però per quanto eh Oh Quello che ha preso No Che No No Pensavo era salito sull'elicottero Round perdente Prossimo round Ok Il nuovo round E questa volta dobbiamo vincere punta e basta Allora Andiamo Velocissimi questa volta Dove bisogna andare Di qua Passiamo per di qua Così non ci prenda paleolica Voglio essere il primo ad andare là Andiamo Andiamo Tanto li buttiamo fuori a questi con la Panto Devo andare a prendere le armi Io mi devo proprio sbrigare Levate tu Levatevi Ok Siamo in prima posizione Si può dire Dai muoviti 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 Ok Veloci Veloci C'è anche un altro No Chi è questo Questo qua è il nemico Eeeh Come si permette questa super armi Mannaccio a lui regà C'è Ce la dobbiamo fare Allora Andiamo No 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 Non mi ha trollata paleolica Ok C'è un altro della mia squadra E questa cosa è positiva Antonio Viola Allora Andiamo 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 Dai non mi trollare Ok Andiamo giù Aspettiamo Cia Perché stanno così avanti Ha citato No regà Secondo me No 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 Sta ancora alla parte iniziale Potrebbe essere Allora Via 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 Perfetto C'è quello Della mia squadra Che sta troppo avanti Va benissimo Ora non so se c'è un punto Dove si può citare Sinceramente Bisognerebbe rigiocarlo Tante volte E vedere Che sicuramente Qualche punto Ci potrebbe essere Allora Andiamo Andiamo Oh No 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 Veloce 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 Per favore Per favore Infilati Sì 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 Ce l'abbiamo fatta Andiamo Andiamo Dobbiamo essere sempre No non di qua Mi sono scordato È di qua Che si passa È proprio di qua Ok Perfetto Dai Si è infilato anche lui All'ultimo Però guardate Quello della mia squadra Non so chi è Là davanti Ora andremo a vedere Andiamo 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 Ok Forse ha già preso le armi Ha già preso le armi Grandissimo Sì regà Ormai è fatta Però come si sale là Come si sale con l'insurgente A piedi No 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 Fermi tutti Che qua bisogna capire come si fa sopra eh Non voglio morire Allora vai Perché si è incastrato lui Non ci passa Come deve passare l'insurgente allora Non mi schiacciare Ah da là Si passa da qua Guarda Mi sono pure suicidato No Avete visto dove è passato Guardate Mario Simo come vola È passato da lì Dalle rocce Da lì si passa Con la Panto Invece si può passare tranquilli E saltare direttamente le armi Con l'insurgente nelle rocce Regà ma io non lo sapevo Non lo sapevo questa cosa All'ultimo ho visto Infatti c'è la Panto parcheggiata là Se vedete Guarda Non ce la fa Antonio Villa era arrivato qua per primo E purtroppo Credo che perderemo 3 a 0 Sono sicuro Comunque sia Credo di riportarlo Questo La rivincita Per forza Perché almeno Adesso sappiamo Come funziona Quindi la prossima volta Sarà molto più facile Allora E niente Loro Dovranno morire Prima o poi Perché l'hanno Già il cararmato E tutte queste cose E vabbè Partita perdente Se ci fosse stata Almeno un altro round Forse ce l'avrebbo fatta Comunque sia Se vi è piaciuto Questa LTS Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Seguitevi su Instagram Saluti Questi suini Bella Ciao Autore dei sorrisi